Uno speciale polifemo insolito, particolare, dedicato alla mia Juve, alla nostra Juve, alla vostra Juve, lo dovevo fare da tifoso, da giornalista libero quali sono, ho voluto così aprire, dare una mezz'oretta di spazio a tifosi che lo meritano perché sono ragazzi puliti, persone pulite che ci credano, che ci credano che tifano Juve, anche per smentire coloro i quali vogliono offendere, stigmatizzare gli ultra, il male dell'Italia non sono affatto gli ultra, anzi, i politici corrotti sono il male. Uno spazio dedicato ad alcune rappresentanze di tifosi, ai drughi Lucania, sezione di Taranto, ai drughi Lucania, sezione Vietri di Potenza, ai drughi Lucania, sezione di Potenza e ancora una rappresentanza del club Juventus Stadium di Massafre. Quindi una bella chiacchierata parlando di tutto, parlando di giudo, parlando di tifo, parlando delle trasferte che si organizzano i tifosi, dei sacrifici tanti che fanno, che compiono per vedere la vita di giudo. Tanti ospiti, tanti tifosi, Fabio Ciraci, Carmine Passannante, Vincenzo Glini, Francesco Palese, Mino Surano, Mino Miola e Angelo Berta. e dì, forza Juve fino alla fine. Tanti ospiti.